Metto prima di tutto la Francia, perché comunque gioca in casa e quando ho giocato in casa ho sempre fatto bene e poi c'è dei giocatori importanti. La Germania, perché i tedeschi ci sono sempre, vuoi non vuoi ci arriva sempre. E penso... poi ci sono tanti outsider e secondo me metto anche l'Italia come outsider. Belgio, Spagna, Inghilterra, forse, ripeto, possiamo avere qualche piccola cosa in meno di talento singolo per queste squadre ma magari possiamo sopperire con un'organizzazione di gioco diversa. E' anche vero che penso che noi abbiamo una delle difese più forti del torneo, quindi va anche detto questo, magari abbiamo dei limiti di giocatori proprio di esperienza internazionale, magari in mezzo e davanti. Però, se parliamo di difesa, penso che andate a prendere tutte le retroguardie che abbiamo, sia una delle più forti. Sì, abbiamo fatto stamattina gli auguri in campo quando è arrivato e l'ho visto anche io bene, un giocatore che ha fatto una stagione incredibile, è un giocatore che può... se torniamo al discorso talenti, è uno di quelli che spicca per talento singolo del giocatore e se lui metterà il suo talento a servizio della squadra penso sia un giocatore che può essere determinante e poi sarà il mister a scegliere. Comunque siamo contenti di avere insigne qua e insigne spero che faccia come ha fatto quest'anno a Napoli, quindi a gol e assist. Siamo perfetti, un assist a me, io faccio il primo gol, siamo contenti. Il gol in nazionale è una cosa che vorrei fare, però diciamo che non deve essere un'ossessione, ma bensì deve essere la ricerca di una gioia. E quindi quest'anno sì, ho fatto un po' meno gol, però sono stato anche un po' sfortunato, ho preso qualche paolo in più, qualche occasione che ho sbagliato. Quindi diciamo che l'importante è farsi trovare lì, poi c'è la volta che ti entrano tutte e la volta meno, però se ci sei riesci magari ad avere più occasioni.